Ciao a tutti, oggi siamo qui a pregare il nostro caro Gesù, Netflix. Non ciò che c'è! Gays! Gays! Signor Tommy Drago, sei pronti? Eh già pronto. Ma suonimpronto! No, f**k. I server sono pieni! Mi ricordo il parto gioco. Problema, guarda! Bene. And was in this moment he knew he ha 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 fucked up! Signore e signori, oggi siamo fattissimi di presentarvi un... pollo! Oh, siamo entrati tutti, tse... bitch! No, screen non è ancora entrato. Eccolo! Eccolo! Ma c'è la silenziata blu, ma che cazzo? Ma si è andato tutto, c'è tutto blu. No, no, c'è anche il portatile blu, c'è il cecchino semiautomatico verde e blu. Ma che cazzo? Vabbè quella... quello ci sta. Hanno diminuito il ratio del tattico, l'ho visto ora. Eh, mi sa di sì. Sì sì, eh. Il tattico, eh. Che cazzo sono tipo i furgoni? Qui, 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 qui. No, anzi è pronto. No, qui, qui, dove ho messo io. Ragazzi siete fai... no, no, ma che cazzo... Ah, ok. A bosco, regà, a bosco! E dobbiamo aprirlo... Dobbiamo aprirgli l'anno. Non ci puoi di armi. Ragazzi, ha fatto poco casino se aggistarmi un video, eh. Eh, anch'io tutti stiamo registrando. Ah, che bella. Anch'io. Ma io no. Ah, no. Sei povero. Alla play. Oh, che bello quando ho il ping a 30. Ah, il mio, eh. Eh, hai mai cambiato il nome. 40. Red. Eh, se io sono morto. Gucci. Vado sopra io. Vado sopra io. Mi ha trovato lo scherzo. Vabbè, ma si trova ogni due ceste qua. Ah, ok Gucci. C'è gente. Dove avvenzionare. La tectis. 85, la. Arrivo, regà. C'è un'arma, una svelenziata, Boris. Mi hanno chiuso. No, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Gucci, 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 arrivo. Nooo. Mi ha fatto 85. Perché lui mi deve fare leccio, che io no. Che merda. Aspetta. Buongiorno. Vai, questi po' giocare in pace. Cioè, e ti devono finire, logicamente. Sì, madonna, quelli che finiscono, sono veramente le persone orribili. No, la kill. Tutti come filo, però. Tenetemi una scelta. È vero. Invece a filo, ti giusto scoppa, però, vuole la kill. Sì. Cosa è? Il filo del 2000 Thompson è molto più scarsa. Regali. Ok, c'è un partizione di consegna. Eh sì, raga, ma c'è gente qua. Vado a prendere io il coso. Oh, gente, 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 gente. Sì, è lì, 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 è lì. Vado a dimissione coso. Vado ad aprire quello. Ci vogliono dieci secondi. Vi va ad aprirla. Non è tanti. È pieno di gente intanto. Vai, va, vedi, cipro. È dietro. Vai, i pussili. Il� i montain. Ma che cazzo. Un piccolo. Ho cattivo da cittadino. Ho cattivo, ho prenduto la mano. Ho cattivo, ho visto una lama. Ma che cazzo ha scampasso l'ama. Una texistina del corpo. Non so se hai visto. ci si è visto in tutto questo non ho un assalto in c h 3 i policellini però al suo secondo non ci serve da santo ora qua ora già pagato microfono un tipo ma il tipo deve tenere qua ragà iniziate ad andare iniziate a portarlo nella stagione minima po andiamo a rinocco ok let's go let's go paracadute sulle spalle let's go l'amo sulle spalle paracadute sulle palle paracadute sulle palle e let's go quanto sono lento salamini sono piccanti mia mamma mi ha fatto uno schergetto dove è? non pensavo fossero piccantissimi minuto da parte anche per i ragionisti anni hanno detto finisci anni spazio 3 c'è la patina aggiunta ma non è un'altra cosa raga bussiamo e bussiamo bussiamo al furgone dei bussher dove è il furgone hai lì c'è stato sparando gai e sbabbè andiamo c'è l'importante a correre nata e ti non puoi correre è vero ma che cazzo no ma spingi come vita e perso no 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 ragazza di giro a sinistra perché perché dato dopo l'albero se ci ha detto ma da sopra ecco il prezzo in ponte ma se ci fanno il furgone abbiamo vinto abbiamo vinto si abbiamo vinto coprite e nel contare vittorie gucci no 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 bella idea bene idea credo l'ultimo furgone che cosa l'ultimo furgone un cecchino l'ultimo furgone vince no no vince tutti vengono stati ci arrivi vinciti non ho più materiali ragazze costruzioni vado 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 fai fai il ponte fai il ponte fai il ponte si 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 vittoria ric stunning ii z diz nazi 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 pazza e sape